Una delle altre cose che stanno arrivando è la realtà aumentata. L'avete visto, magari è uscito il visore di Apple, c'è uno video dappertutto, gente che fa così camminando, non so se li avete visti, no? Che cliccano ovunque nell'aria, tipo dei matti, e adesso hanno il visore, ma tra un po' non avranno neanche più il visore. Con la lente a contatto, tra poco, succederà che c'è gente che cammina così e ti dici, vabbè, è finita. Pensate a un marziano, non ci invadono per quello, non è che non esistono. E la realtà aumentata comunque è molto interessante, perché in realtà, a parte gli scherzi, ci permette di fare tutta una serie di cose, no? E a tutta l'età, peraltro. Queste sono delle cose utili che si possono fare, no? La nostra vita presto sarà così, sarà normale avere informazioni aggiuntive su quello che vediamo, sapere che cosa, non so, guardare le foto così, piuttosto che parlare con persone che sono lontane o che non ci sono. Dal punto di vista dello studio, no? Imparare nuove, vedere fisicamente quello che stiamo studiando. E cambiare vestiti e guardarsi davanti allo specchio. Questo qui sono dei chirurghi che stanno facendo un'operazione a un pancreas e stanno vedendo tutti i vari vasi live in tempo reale. Questa non è una demo, è una cosa vera che è successa.